Il Land Rover Defender è uno dei veicoli più iconici della storia dell'automobile, con una presenza sul mercato che risale agli anni o d'allora. Il Defender è stato costantemente aggiornato e migliorato, ma il suo design distintivo è rimasto invariato nel 2020. La Land Rover ha presentato una nuova versione. D'allora, il Defender è stato costantemente aggiornato e migliorato, ma il suo design distintivo è rimasto invariato nel D'allora, il Defender è stato costantemente aggiornato e migliorato, ma il suo design distintivo è rimasto invariato nel 2020. La Land Rover ha presentato una nuova versione. D'allora, il Defender è stato costantemente aggiornato e migliorato, ma il suo design distintivo è rimasto invariato nel Ciò significa che il Defender V8 può accelerare da 0 a 100 km orari in soli 4,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 240 km orari. Ciò significa che il Defender V8 può accelerare da 0 a 100 km orari in soli 4,9 secondi. Il Defender V8 è dotato di una serie di caratteristiche tecniche avanzate, tra cui una trasmissione automatica a 8 rapporti, un sistema di sospensione adattivo e un sistema di Il Defender V8 L'auto presenta un'estetica aggressiva, con un paraurti anteriore in stile sportivo, prese d'aria laterali e un diffusore. D'altra parte, la versione Heritage del Defender è stata progettata per omaggiare la storia del Questa versione presenta un design retro, con un paraurti anteriore in metallo, una griglia anido da peiloghi Defender e l'endrover in stile La Heritage è disponibile in tre colori tradizionali, verde, beige e bianco La Heritage è alimentata da un motore diesel a 6 cilindri in linea da 3,0 litri, che produce una potenza di 296 CV e una coppia di 650 Il motore è abbinato a una trasmissione automatica a 8 rapporti e il veicolo è dotato di trazione integrale Entrambe le versioni del Defender sono dotate di una serie di caratteristiche di sicurezza avanzate, tra cui un sistema di frenata automatica d'emergenza, un sistema di mantenimento della Entrambe le versioni del Defender sono dotate di una serie di caratteristiche di infotainment avanzate, tra cui un sistema di navigazione satellitare, un sistema audio premium e una serie di opzioni Inoltre, il